Vi faccio i complimenti insieme di in bocca al lupo per la riuscita di questo sforzo che merita dal mio osservatorio di essere apprezzato in modo particolare per due ragioni. Intanto la prima è che una rete integrata di professionalità è sicuramente lo strumento principale e quello più efficace per affrontare in modo particolare il fenomeno della violenza di genere. Su questo si investe ormai da tempo, siamo assolutamente consapevoli della necessità di costruire questa rete e soprattutto della necessità di fare in modo che i diversi soggetti e le diverse competenze si intrecino in maniera sinergica e proficua. Lo dico perché in modo particolare noi dobbiamo investire soprattutto sulla professionalità degli operatori. Aumentare la professionalità oggi è la chiave di volta per combattere una delle cause forse principali per la quale la violenza di genere fa ancora fatica ad essere debellata. La violenza di genere è un fenomeno strutturale, sociale, lo dico sempre, non emergenziale, è un fenomeno che investe la sfera pubblica, non è un fenomeno privato seppure si consuma nella stragrande maggioranza dei casi nelle mura domestiche. è un fenomeno che ha radici antiche e profonde rispetto al quale anche il nostro paese ha soltanto di recente costruito un impianto normativo sicuramente significativo, secondo me di per sé necessario, ma da solo come in tutti gli altri casi mai sufficiente ad aggredire in maniera radicale il fenomeno. Questo perché a un impianto normativo è necessario affiancare assolutamente un cambio vero e profondo e radicale di mentalità. La violenza di genere affonda le radici in un rapporto asimmetrico nella relazione uomo-donna che è ancora un rapporto e una relazione di potere, oggi profondamente asimmetrica, nonostante leggi d'avanguardia, traguardi e raggiunti. Quindi se noi continuiamo a ignorare tutto questo non riusciremo mai ad aggredire in maniera efficace il fenomeno. Per questo però è necessario formare operatori, formare operatori in maniera adeguata, tutta la rete degli operatori e fare in modo che la rete dialoghi al proprio interno, che centri antiviolenza, dialoghi con i medici di base, che gli psicologi siano psicologi formati, tanto se operano in maniera individuale, tanto a maggior ragione, per esempio, se svolgono le loro funzioni all'interno dei processi. Pensiamo solo alle consulenze tecniche che vengono fornite tante volte nel corso dei procedimenti, non tanto penali quanto quelli di separazione. È fondamentale che il fenomeno della violenza venga soprattutto letto e riconosciuto. Da questo punto di vista è il secondo plauso alla vostra iniziativa, cioè la centralità del medico di base. Da tempo noi diciamo che proprio perché il fenomeno della violenza è un fenomeno molto ancora nascosto, che fa fatica ad emergere, perché invito tutti quanti sempre in questo caso a una riflessione seria su quanto la violenza di genere sia una violenza particolarmente delicata per chi la subisce. Si fa fatica a riconoscerla, si fa fatica a farla emergere, si fa fatica a denunciarla. Quindi va un po' scovata, vanno costruite attorno alla potenziale vittima, parte offesa, intanto una rete di accoglienza, di lettura e non di condanna. Purtroppo la mancanza tante volte di professionalità dei tanti operatori, purtroppo lo devo dire, è una mancanza di professionalità che investe tutte le categorie degli operatori, tante volte. Poi tante volte ce ne sono ovviamente mai di erba un fascio, professionalità eccezionali. Però purtroppo tante volte possiamo trovare un magistrato che scrive una sentenza con un linguaggio sbagliato, possiamo trovare un ufficiale di polizia giudiziaria che non sa accogliere in maniera adeguata, perché non è formato in maniera adeguata, perché è portatore di una mentalità e di uno stereotipo che è al suo interno e che è difficile da vincere. Insieme a questa professionalità dicevo che è necessaria e indispensabile per sapere accogliere una donna che in qualsiasi sportello, sportello del pronto soccorso, uno sportello di ufficio di polizia giudiziaria, uno sportello come può essere quello del medico di base. Oggi troppo poco ancora i medici di base coinvolti dentro questa rete. Quindi applauso alla vostra iniziativa perché in centro invece sui medici di base, una diciamo come dei livelli, guarda come un grande perno di svolta, una risorsa intorno alla quale costruire la rete delle professionalità, che è sicuramente vero perché tante volte in tanti centri, pensiamo soprattutto ai centri più piccoli, dove non arriva un centro antiviolenza, dove non arriva un pronto soccorso specializzato, dove non arriva anche un ufficio di polizia giudiziaria specializzato o una procura specializzata con una sezione specializzata, sicuramente ci può arrivare un medico di base. Tutti hanno il medico di base, piccoli centri, grandi centri, tutti si rivolgono per qualche ragione a un medico di base e si possono rivolgere come spesso accade al medico di base senza denunciare la violenza, ma per effetti collaterali che la violenza di genere determina sulla parte offesa o su eventuali, diciamo, altre vittime della violenza, in modo particolare i bambini. Un medico di base adeguatamente formato, supportato da un'ampia rete di professionisti, insieme alla rete può cogliere immediatamente quei segnali e quindi intervenire, leggerli in tempo utile, oggi è fondamentale per riuscire a intervenire in maniera efficace quando non è troppo tardi. Per queste due ragioni mi permetto di farvi complimenti, soprattutto un sincero in bocca al lupo e ovviamente la dichiarazione di massima disponibilità a collaborare da partire da oggi nel corso del vostro percorso. Grazie.